Bentornati sul canale. Leggiamo insieme il messaggio dell'11 marzo 2011 tratto dal libro della verità. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al canale, lasciare un mi piace e condividere questo video anche con altre persone. E se ti fa piacere puoi attivare le notifiche dalla campanella che trovi in alto, così non ti perderai i prossimi video che caricherò. Allora iniziamo a leggere il messaggio. Venerdì 11 marzo 2011 alle ore 15 e 30. Mia amata figlia, la purificazione che l'umanità dovrà subire attraverso le guerre, i terremoti, le eruzioni vulcaniche, gli tsunami, le ondate di calore e le colate di fango, sta continuando a causa dei peccati del genere umano. Solo coloro che si volgono a me, il loro divino salvatore e al loro creatore, il padre mio e al padre loro, possono essere salvati. Non guardate mai a mio padre con paura, poiché egli ama tutti i suoi figli. Tuttavia egli applicherà la punizione su coloro che rifiutano di accettare la sua esistenza. La sua pazienza ora, mentre il male, la mancanza di fede e lo scandaloso amore dell'uomo per se stesso continuano, sta giungendo al termine. Il mio eterno padre, Dio, il fattore e creatore di tutto, ama tutti i suoi figli con la stessa tenerezza che i genitori provano con i propri figli. Ma proprio come i genitori responsabili fanno con i loro figli, punendoli se compiono delle azioni aggressive o inaccettabili, ugualmente ora verrà rilasciata l'ira del padre mio sul mondo in questo tempo. Questo, figlia mia, è come ti ho detto l'anno della purificazione. Ovunque, le persone in ogni luogo capiranno che questi eventi non sono naturali. Essi sono causati dall'intervento divino allo scopo di far capire all'uomo, finalmente, la verità delle scritture. Pregate, pregate per la conversione, il vostro amato Gesù Cristo. Bene, questo era il messaggio di venerdì 11 marzo 2011, delle ore 15 e 30. Io, come sempre, non vi spiegherò questi messaggi perché voglio che li leggiate voi, quindi vi lascerò il link nella descrizione del video dove appunto metterò questo link dove voi cliccate e si aprirà direttamente il messaggio del video. Il sito è gesuallumanità.wordpress.com e poi c'è il numerino con ogni messaggio, quindi ve lo lascerò direttamente in descrizione così voi potete leggerlo e sicuramente voi sapete che non me li traduco perché voglio che proprio li leggete voi, che date voi un significato a questi messaggi perché ognuno nella propria esistenza ha fatto sia bene che male. Quindi in base a quello che voi avete fatto, voi potete dare la vostra interpretazione. Quindi vi lascio il link in descrizione, lasciate se volete un commento qui sotto con il vostro pensiero e che Dio vi benedica sempre. Vi ringrazio a tutti e al prossimo video.